Alla struttura territoriale di Messina dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente Terna non ha fornito alcuna documentazione tecnica riguardante il progetto del nuovo elettrodotto. Ne è stato formalizzato con Arpa Sicilia alcuna convenzione per il piano di monitoraggio dei campi elettromagnetici, convenzione prevista da vari atti amministrativi del Comune di Pace del Mela. Il coordinamento ambientale Milazzo-Valle del Mela, che ha messo nel mirino la società Terna, auspica un'interlocuzione istituzionale con Arpa Sicilia, l'unico ente preposto al monitoraggio ambientale e ad avere tutta la documentazione tecnica sul costruendo elettrodotto a 380 kV doppia Terna sorgente Rizzigoni. Perché, si chiedono i rappresentanti del coordinamento, Terna non ha trasmesso nessuna documentazione. Nel frattempo continua l'azione dei legali delle associazioni, che sono al lavoro già da tempo per vagliare la mole di documentazione per intraprendere un iter giudiziario in ogni sede, per tutelare l'ambiente e la salute. In ultimo, il coordinamento, chiedendo di essere convocato ai tavoli tecnici e conferenze di servizio, solleva dubbi pure sull'iniziativa del sindaco di Pace del Mela Giuseppe Sciotto, pali e paesaggi, per mitigare l'impatto visivo dei pali monostelo del costruendo elettrodotto. Invece di fare questo, hanno scritto in un documento, sarebbe opportuno attivare una serie politica ambientale a difesa della salute pubblica, perché il problema principale è l'impatto sanitario, sicuramente non quello visivo.